mk dove va il pekka dove va il pekka veneno 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 subito vabbè sta male da gelo molto molto bella non sono manco morti gli arcieri è stato diventato il mazzo con 9 e 15 mesi non sono manco morti gli arcieri non sono manco morti ho finito morfia no ma c'è Luca stai esultando perchè stavo registrando si stavo registrando mi dicevo stai ancora registrando si io giuro che alle mattine non c'è la vita un coglione si tranquillo che te l'ha da verso non si è sentito è mutato perchè la mattina ce l'ha pitta un coglione sono 46esimo al mondo ad aver finito morfia what the hell perchè non lo vuole finire nessuno non se lo caga nessuno si sto registrando non è che non se lo caga nessuno perchè non lo vuole finire nessuno sto registrando sto registrando allora sai cosa significa che hanno la fulmine che adesso spameranno solo fulmine sentito io Grazie a tutti.